Debutto nel mercato italiano per Surface RT, la prima proposta tablet di Microsoft basata sul sistema operativo Windows RT. Cuore di questa soluzione è il chip Nvidia Tegra 3, abbinato a 2 GB di memoria di sistema, ad uno storage da 32 oppure 64 GB e un display da 10,6 pollici con risoluzione di 1366x768 pixel. Lo schermo è di tipo Corning Gorilla Grass 2.0. La struttura dello chassis è in lega di magnesio, capace di garantire un'elevata resistenza pur essendo tre volte più leggero dell'alluminio. Giroscopio, accelerometro, sensori di illuminazione sono stati integrati in Surface RT, funzionalità utili per gli sviluppatori di applicazioni che sono coinvolti nell'ecosistema Microsoft tanto Windows 8 come Windows RT. Molto interessante è il sistema di stand che permette di posizionare il Surface RT in verticale. Il display si posiziona con un angolo di 22 gradi, facilitando l'interazione soprattutto nel momento in cui è montata una delle due cover. Quale accessorio troviamo infatti due diverse cover con funzionalità di tastiera, collegate con magneti al tablet. Type Cover è quella che è meglio simula una tastiera tradizionale, mentre Touch Cover è più adatta a una digitazione non continuativa nel tempo. Prezzi a partire da 487 euro, IVA inclusa, per la versione da 32 GB, disponibilità immediata.